che poteva contare sul prezioso 1-0 dell'andata contro il Vittoria Setubal e alla quale dunque sarebbe bastato uno 0-0 ma la squadra di Novellino sblocca subito il risultato all'ottavo minuto cross basso di Diana, sfruttato al meglio da Gasbarroni che di controbalzo gira al volo e trafigge il portiere del Vittoria Setubal, Moretto, rivediamo proprio qui la conclusione I portoghesi reagiscono, creano due occasioni verso la fine del primo tempo nel giro di un solo minuto e la punizione che finisce sul palo è al 42esimo e la più ghiotta assedio finale ancora del Vittoria che in pieno recupero va vicinissimo al gol su azione di calcio d'angolo anche il portiere Moretto si porta in area blu cerchiata, circa il colpo di testa poi la palla finisce sui piedi di Aurich che calcia malissimo e quindi le esplode l'entusiasmo blu cerchiato